Chi di noi non ha avuto esperienze e incontri con l'ignoto è l'inspiegabile. Qui paghiamo profumatamente per ciò che possedete di posseduto. Ecco, questa è molto, molto interessante. La vendo per 40. Non ho mai visto niente di simile. Mai. 60. In tutta la città di New York sono in aumento gli attacchi di fantasmi. La chi appa fantasmi cosa vuole? E noi siamo gli unici. Accettami forte! Attrezzati per affrontarli. Benvenuti al nuovo centro di ricerca sul paranormale. Lasciate che i fantasmi girino liberi. Abbiamo passato 40 anni a catturarli. Ora li studiamo, finalmente. È carino. Sì! Da quando questa sfera è qui, sono successe cose strane. Penso che comandi gli altri spiriti. Qualcosa cerca di uscire? Molte cose. Potremmo avere a che fare con un intero esercito di fantasmi, così spaventosi da gelare. E il sangue nelle vene. Una vera morte da brivido? Gran bel casino. Quindi, qual è il piano? Siamo a chi appa fantasmi. Restiamo e lottiamo per questo posto. Preparati. Arrostisci tutto quello che fa paura. Una profezia dice che quella sfera causerà la fine del genere umano. Una nuova glaciazione. Allontanati da lei! Certo. Allontanati da lei! Al prossimo episodio!